Musica Abusato dall'amica delle figlie che all'epoca dei fatti aveva solo 14 anni, arrestato dalla polizia ollecchese e condannato a 4 anni in cassazione per violenza sessuale. Musica Vi è libera l'ampliamento della cava del Magnodeno e il SIA il progetto è giunto oggi dalla conferenza dei servizi, parere positivo anche dal comune di Lecco. Sciopero unitario di due ore questa mattina all'ospedale di Lecco, i lavoratori sono allo stremo, manca personale e non sono possibili assunzioni, denunciano sindacati ed RSU. Musica Sabato 15 maggio si riaprano le porte di Spazio Teatro Invito, un momento per condividere con la cittadinanza il lavoro svolto e scoprire le proposte culturali dei prossimi mesi. Musica Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Unica Lecco, in apertura una vicenda davvero agghiacciante, abusato dell'amica delle figlie che appunto all'epoca dei fatti aveva da poco compiuto 14 anni, la polizia ha arrestato un lecchese e condannato a 4 anni in cassazione per violenza sessuale. Vediamo il servizio. Una vicenda agghiacciante dove la vittima è una ragazzina che all'epoca dei fatti aveva da poco compiuto 14 anni. Le manette sono scattate ai polsi di un lecchese condannato dalla corte di cassazione a 4 anni di carcere per violenza sessuale. Gli agenti della squadra mobile di Lecco lo hanno arrestato in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso al termine dei tre gradi di giudizio. L'indagine risale al 2014, quando la sezione reati contro la persona della questura del capoluogo lariano, al termine di approfonditi e delicati accertamenti, aveva stretto il cerchio intorno al papà responsabile di abusi sessuali nei confronti dell'amica delle figlie. L'adolescente, che aveva da poco perso la madre, era solita trascorrere molto tempo nell'abitazione delle compagne, a volte si fermava anche a dormire, fino a quando le attenzioni dell'uomo si erano fatte morbose. Costretta a subire violenza, aveva trovato la forza di raccontare il suo dramma alla psicologa che la seguiva dopo che era rimasta orfana. L'uomo è stato arrestato giovedì e condotto nel carcere di Pescarenico, dove sconterà la pena. Via Libera, l'ampliamento della cava del Magnodeno, il sì al progetto è giunto oggi dalla conferenza dei servizi, parere positivo è stato espresso anche dal comune di Lecco, attacca l'ex candidato sindaco Silvio Fumagalli, l'amministrazione dice ha già dimenticato l'ambiente e la conclusione di un iter già avviato replica ambientalmente. Vediamo. Sì, all'ampliamento della cava del Magnodeno, ma con alcune prescrizioni. La conferenza dei servizi, convocata dalla provincia di Lecco, ha autorizzato Unicalce ad escavare altri 2.700.000 metri cubi e allargare il sito di Baiolo Alta, di circa 17.000 metri quadri. Tutti gli enti coinvolti, compreso il comune di Lecco, hanno dato parere positivo sulla scorta di questo, dei contributi dei soggetti interessati, nonché dell'approfondito esame istruttorio. È stata deliberata la conclusione favorevole del procedimento, ma con diverse prescrizioni. Il contenimento della dispersione delle polveri e delle emissioni in atmosfera, la prevenzione della contaminazione del suolo, la regimazione delle acque, il contenimento dell'impatto visivo paesaggistico, il recupero ambientale e l'adeguamento dei progetti. La via libera all'ampliamento delle scavazioni è subordinato all'acquisizione del piano di monitoraggio ambientale, che dovrà pervenire entro dieci giorni, per essere integrato, previa verifica, nel provvedimento di compatibilità ambientale. La decisione della conferenza dei servizi e, in particolare, il parere positivo dell'amministrazione lecchese, sono destinati a creare polemiche e malumori anche all'interno della maggioranza. Conto il progetto si era battuto il comitato Salviamo il Magnodeno, che con una petizione online ha raccolto 34.000 firme, avevano espresso il loro no, anche WWF e Lega Ambiente. Dura il commento di Silvio Fumagalli, ex candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. C'è profonda delusione, spiega. Passato mesi a insistere sull'importanza della sostenibilità. Purtroppo non sono riuscito a trasmettere sufficientemente l'importanza di salvaguardare il nostro territorio in maniera autentica. Oggi, dice Fumagalli, è ancora più evidente come questa amministrazione abbia abbandonato la maschera dell'ambientalismo a campagna elettorale finita. Alla prima vera prova dei fatti ha ignorato la tutela dell'ambiente. E' il punto di arrivo di un intertecnico già avviato, spiega Alessio Dossi, capogruppo di Ambientalmente. Nel limite delle nostre competenze lavoreremo per restituire ai lecchesi, quando sarà cessata la possibilità di escavare garantita dal piano cava del 2014, quelle aree ripristinate dal punto di vista ambientale. Sciopero di due ore questa mattina all'ospedale di Lecco, i lavoratori sono allo stremo, manca personale, non sono possibili nuove assunzioni, spiegano sindacati ed RSU. Sciopero questa mattina dei lavoratori della SST di Lecco, perché? Lo sciopero ha tante motivazioni, è stata anche complicata, come dire, scegliere di fare lo sciopero durante la pandemia. L'animazione più forte è personale, siamo allo stremo, il personale non ce la fa più, manca personale, non abbiamo la possibilità di sostituirlo perché non ci sono concorsi in atto per infermieri, ossi e amministrativi. I dati ci dicono 135.000 ore da recuperare e 41.000 giornate di ferie. E' un anno e mezzo che si lotta dietro queste mura al Covid e il personale non riesce nemmeno a fare le ferie, quelle stabilite da contratto. Siamo veramente in emergenza. Il nostro appello oggi è quello di un piano straordinario di assunzioni, anche perché questo personale dovrà aggandire non solo le vaccinazioni, ma anche tutte le prestazioni che non sono state erogate durante l'emergenza Covid. Siamo in una vera e propria emergenza, abbiamo bisogno di personale. Quelli che ieri erano degli eroi, oggi sono dei lavoratori che hanno bisogno di attenzione, tanto quanto il territorio, tanto quanto tutta la struttura. Le attenzioni date a loro si riverseranno sui cittadini e quindi sui servizi all'utenza come qualità e soprattutto come servizi ottimizzati, perché saranno persone soddisfatte, contente del loro lavoro e soprattutto riposate per poter dare un servizio come si deve. Quindi fino a quando non c'è la dovuta attenzione anche all'utenza interna oltre a quella esterna, ovviamente noi saremo in questa piazza o in tante altre piazze a tutelare il diritto del lavoratore ad avere le ferie, avere i riposi e poter avere una programmazione della propria attività e della propria vita che sia coerente con quello che prevede il contratto. Noi abbiamo chiesto un piano Marshall per le assunzioni, non c'è stato. Abbiamo chiesto più riposo, non c'è stato. Abbiamo chiesto più tutela e sicurezza e personale, non c'è stata. E chiediamo immediatamente l'apertura di un tavolo per quanto riguarda tutte le discussioni a livello regionale di questa sanità. Facciamo un appello all'assessore Moratti, prima che ci veda in corteo sotto al pirellone, che apra le trattative con noi e che non diventi il Covid, il prossimo business in Lombardia, ma curi i cittadini per quanto riguarda il potenziamento delle visite ambulatoriali, abbattendo anche le liste d'attesa. Bene, il mercato in centro, male i soldi per finanziare il progetto di riqualificazione dei piani DERNA. Peppino Ciresa, candidato sindaco del centrodestra, giudica così i primi sei mesi di mandato della giunta Gattinoni. Primi sei mesi della giunta Gattinoni. Siamo con Peppino Ciresa, già candidato sindaco del centrodestra. Un giudizio sui primi provvedimenti dell'amministrazione comunale. Direi che in sei mesi diventa un po' difficile fare un bilancio su un'amministrazione comunale. Comunque mi ha fatto molto piacere degli amici che mi hanno mandato dei messaggini dicendomi che sono contenti perché stanno vedendo che stanno facendo un po' tutto quello che dicevo io in campagna elettorale. Per carità, mercato compreso, io mi ricordo che parlavo del mercato in centro ancora quando ero presidente di Confommercio e quindi prima di tutti, adesso pensando che anche se solo in via sperimentale il mercato torni in centro, un mercato di qualità fatto bene che può diventare sicuramente e diventerà sicuramente un'attrazione turistica, non può farmi che piacere. Questa è le note positive, qualche nota dolente invece? Nota dolente, secondo me manca un po' di coraggio in questa maggioranza, diciamo così. Un esempio per tutti, quando si parla di cosa fare sulle nostre montagne o vanno a spendere dei soldi con dei consulenti perché non si sa cosa fare, assolutamente. La gente di Lecco non può avere un'idea di questo tipo, la gente di Lecco deve conoscere il territorio, quando si parla di Erna si sa cosa c'è da fare in Erna, non c'è bisogno di andare a chiamare l'archistar che ti dice quello che devi fare. I leghisti lecchesi chiedono un nuovo viadotto sull'Adda fra Calusco e Paderno, con una risoluzione in Commissione Trasporti alla Camera, firma del deputato Roberto Paolo Ferrari, la Lega chiede al Governo l'immediato avvio della progettazione per la realizzazione in contemporanea di due ponti adiacenti. Si impegna con questo atto il Governo a promuovere incontri urgenti tra il Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibili, la Regione Lombardia, RFI e i Presidenti delle Provincie di Bergamo e Lecco per l'attivazione di una cabina di regia sulle questioni riguardanti il ponte San Michele. Numeri positivi in un anno difficile per la Banca della Valsassina, unico istituto di credito locale rimasto in provincia di Lecco, utile in crescita e un occhio sempre attento alle esigenze del territorio, anche in collaborazione con la Fondazione Comunitaria dell'Ecco. Numeri positivi nel 2020 per la Banca della Valsassina, l'unico istituto territoriale rimasto in provincia di Lecco. L'utile di esercizio è stato di 2 milioni e 300 mila euro netti, un risultato importante per la nostra banca, considerato che è stato realizzato nel periodo dell'emergenza sanitaria nell'anno 2020 in cui è scoppiata l'emergenza Covid-19. Un importante risultato è stata l'ulteriore riduzione del credito di riorati senza particolari impatti a conto economico e un altro importante risultato è la crescita della raccolta da clientela e un mantenimento dei volumi di impiego. È stato un anno complicato ma anche di soddisfazione. Complicato perché essendo una banca fortemente radicata sul territorio abbiamo vissuto insieme ai nostri clienti e ai nostri soci le conseguenze della pandemia, quindi qualche difficoltà anche dal punto di vista operativo l'abbiamo avuta. Soddisfacente in quanto comunque siamo riusciti a tenere dal punto di vista sia economico che patrimoniale e anche dal punto di vista del credito deteriorato. Quindi i numeri sono stati buoni, abbiamo fatto un ottimo utile, abbiamo tassi di credito deteriorato molto contenuti, abbiamo indici patrimoniali estremamente rilevanti anche se paragonati al sistema bancario nazionale e internazionale. Cosa significa oggi essere una banca del territorio? Oggi essere una banca del territorio significa lavorare sul territorio, soffrire a volte sul territorio e significa anche cercare di ribaltare sul territorio quello che il territorio ci dà. Quindi la banca della Valsassina assolve anche una funzione mutualistica essendo una società cooperativa e anche l'attività di beneficenza e l'attività di sostegno ad associazioni, parrocchie, enti di beneficenza è estremamente rilevante per noi. Abbiamo instaurato recentemente un proficuo rapporto con la Fondazione Comunitaria delle Lecchese, abbiamo recentemente donato 35 mila euro al fondo aiutiamoci per il contrasto alle povertà e questo è il nostro DNA. Sabato 15 maggio domani si riaprono le porte di Spazio Teatro Invito, un momento per condividere con la cittadinanza il lavoro svolto a distanza in questo anno e per scoprire le proposte culturali dei prossimi mesi. Riaprono le porte a Spazio Teatro Invito, si comincia con un evento proprio per far sapere alla città che il lavoro è stato tanto anche in questi mesi di chiusura forzata a causa dell'emergenza sanitaria e ci sono degli eventi in programma per i prossimi mesi. Sì, finalmente riapriamo le porte del nostro teatro, possiamo riaccogliere in sala i nostri spettatori e quindi sabato 15 maggio alle ore 18 apriremo Teatro Invito per riaccogliere i nostri spettatori e racconteremo i nostri lavori fatti nel chiuso del teatro senza il pubblico, faremo qualche brano dal vivo del radiodramma Il Romantico Govarito che è andato in onda in queste settimane su R.C. Calolzio, presenteremo poi il nostro nuovo CD Canzonette Teatrali volume 2 che è una raccolta delle canzoni per gli spettacoli per bambini che abbiamo prodotto in questi anni più un inedito e poi racconteremo una rassegna musicale che partirà da metà maggio fino al mese di giugno curata dall'associazione Microcosmos che presenterà dal vivo con un paio di brani appunto questa mini rassegna dedicata al tango e poi faremo qualche anticipazione delle nostre due rassegne estive, i luoghi dell'Adda che partirà a metà giugno e l'ultima luna d'estate che invece sarà tradizionalmente da fine agosto fino a inizio settembre. Come fare per partecipare a questo evento di sabato 15? La prenotazione è obbligatoria per i motivi che tutti sappiamo quindi si può mandare una mail all'indirizzo segreteria-teatroinvito.it, tutte le informazioni sono anche sul sito teatroinvito.it dove si trova anche il numero di telefono. È un sospiro di sollievo dopo tutti questi mesi in cui questo settore ha davvero tanto subito anche dal punto di vista economico questa pandemia? Eh sì, davvero è un sollievo e soprattutto è proprio una grande sensazione di ripartenza, di riapertura, di rivedere le persone per cui lavoriamo perché insomma noi ci siamo inventati tante cose anche lavorando tra di noi e riunendo molto anche lo staff quando questo è stato possibile però il nostro lavoro è fatto per il pubblico quindi non vediamo l'ora di rincontrarlo. Torna Arancio, pittoresco quartiere della città di Lecco, la festa della primavera, due giorni di eventi in digitale per portare avanti la tradizione nonostante il Covid. Scusa, questa è la vera festa di Arancio. Annullata l'edizione 2020 causa pandemia, quest'anno non si è voluto proprio rinunciare alla festa di Arancio. Così questo weekend il piccolo rione lecchese ai piedi del San Martino tornerà a far parlare di secola, diciottesima primavera festa. Sarà un'edizione insolita quella di quest'anno ma sempre con l'intento di far riscoprire uno dei quartieri più belli della nostra città. Quest'anno la festa diventa maggiorenne, compie i suoi 18 anni. Allora abbiamo pensato, viste queste limitazioni, di proporre una festa digitale. Allora sui siti la primavera festa di Arancio, Facebook e sul canale YouTube posteremo dei video che le associazioni locali stanno girando proprio in questi giorni per dare un messaggio rispetto al nostro rione che ha delle bellezze geografiche, paesaggistiche di notevole rilevanza e anche per dare un messaggio di vicinanza, di affetto e anche di gioia a tutti coloro che ci seguiranno. Abbiamo preparato un programma che riprende proprio un po' l'organizzazione della primavera festa classica. Quindi nelle giornate dei sabato 15 e domenica 16 verranno postati questi video, hanno una cadenza oraria. I video che verranno postati potranno essere rivisti in qualsiasi momento. Il palato non poteva essere soddisfatto se non in presenza e quindi nella sede degli alpini e presso il circolo libero pensiero ci sarà la possibilità di ritirare il pranzo da asporto che si può prenotare nelle giornate precedenti. Allora vi aspettiamo tutti collegati sui nostri siti e un arrivederci all'anno prossimo in presenza. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale, seguitici anche sui social sul nostro sito www.teleunica.com Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie.